Dal 30 giugno al 7 luglio Vico Equenze ospita la 14esima edizione del Social World Film Festival, la mostra internazionale del cinema sociale. Il festival, nato nel 2011 da un'idea del regista e produttore Giuseppe Alessio Nuzzo, negli anni si è affermato come promotore di un mercato, museo e monumento del cinema. Sentiamo le parole del fondatore Nuzzo. Tantissimo cinema, tantissimo cinema impegnato, il cinema come veicolo di messaggi sociali, tantissimi film dalla mattina alla sera, grandi emozioni con ospiti internazionali, la madrina Begonia Vargas dalla serie Berlino della Casa di Carta, ci sarà il protagonista di Elite, Izzar Escamiglia e poi tanto tanto cinema italiano. Un momento aggregativo e di discussione proattiva su temi sociali attuali dove il cinema appunto ne è indiscusso portatore alla conferenza stampa di presentazione in regione Campania, anche l'assessore al turismo della regione Felice Casucci e il sindaco di Vico Equenze Giuseppe Aiello. Penso che sia un'opportunità, sia una settimana, otto giorni di festa, ma sia anche un'opportunità per tanti ragazzi ma anche per persone adulte per ripensare l'importanza che ha lo stare insieme. Grande orgoglio innanzitutto essere qui per poterlo presentare dopo essere stati anche al Ministero della Cultura, quindi esprimo la mia grande soddisfazione a nome mio ma dell'intera città. Testimonial particolare dell'edizione 2024 del Social World Film Festival, la giovanissima attrice Federica Vecchione. Buttiamoci in questo mondo e noi che siamo giovani possiamo permetterci ancora di sognare, facciamolo, anche perché diciamo soprattutto in Campania e anche in Italia c'è una produzione vastissima, ormai l'interesse per l'audiovisivo è aumentato molto e noi dobbiamo sfruttare questa occasione soprattutto perché se abbiamo la passione insomma chi ce lo vieta.